Bene, il quinto incontro del ciclo Giornata Diocesana per la tutela del creato. Per i credenti si parla di creato, per i non credenti comunque è l'ambiente che ci circonda. Questa sera l'abbiamo pensata come un'ideale continuazione dell'incontro che facciamo nell'ambito della settimana del Buon Vivere lo scorso anno, dove ci chiedemmo a settembre del 2023 cos'era successo qualche mese prima. Questa sera vedremo un po' se abbiamo imparato qualcosa da quel evento che si è purtroppo ripetuto. L'anno scorso ci furono due alluvioni inizio maggio e 16 maggio del 2023, quest'anno qualche giorno fa. Ora, prima però di passare ai relatori, io vorrei ringraziare innanzitutto il Comune di Forlì che ha gentilmente concesso questa straordinaria sala che normalmente è per lezioni universitarie e poi viene concessa, credo per una decina di giorni all'anno, per eventi extra universitari. Io chiamerei a portare i saluti, a nome dell'amministrazione, l'assessore Luca Bartolini, assessore urbanistico del Comune di Forlì. Buonasera, eccellenza, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Io sono onorato di portare il saluto a nome dell'amministrazione comunale in questo importante momento di conoscenza, di confronto, di riflessione che si fa su un tema fondamentale per la vita del pianeta e purtroppo ancora di estrema attualità per il nostro territorio perché è recentissima, come diceva nell'introduzione, la drammaticità, la criticità recentissima, drammatica che abbiamo vissuto dieci giorni fa. Io, il sindaco e altri assessori siamo stati tutta la notte in apprensione, in profonda apprensione, in comune, a seguire, così come ha fatto mezza città che ha vissuto una notte di vera apprensione, a seguire quello che era lo stato del fiume, in particolare del fiume Montone, meno gli altri, e anche qui dopo si può dire qualcosa, ma il fiume Montone in particolare era quello che ci preoccupava di più e tenevamo monitorati i dati che ci prevenivano dall'arpa e ci dicevano qual era lo stato del fiume, sia all'altezza del ponte di Porta Schiavonia, sia a Castrocaro per capire se aumentava o diminuiva e veramente per così tanto, ma proprio per così tanto, non ha tracimato nuovamente. E questa apprensione l'abbiamo realizzata anche la mattina seguente, quando siamo andati a vedere, a fare dei sopralluoghi, io il sindaco e altri due assessori su alcune zone e abbiamo visto e abbiamo parlato anche con della gente e abbiamo capito proprio la drammaticità che aveva vissuto nella notte precedente. Poi ci sono delle vie in particolare che sono figlie di scelte sbagliate del passato, che purtroppo oggi così sono, non è che facciamo i conti con quella che è una storia della città che non è che la risolviamo oggi, che ci siamo trascinati da qualche decennio e capiamo che gli errori del passato sicuramente non vanno rifatti e lo dico alla luce anche di quello che noi stiamo facendo come amministrazione. Noi abbiamo in questo mandato, in questa legislatura, ma poi dopo vi parlerà meglio di questo l'architetto Bazzocchi, un ottimo tecnico del Comune, quindi l'ingegnere Bazzocchi che vi spiegherà meglio nel dettaglio alcuni particolari. Stiamo elaborando il Pug, il piano urbanistico generale che dobbiamo fare ai sensi della nuova legge regionale 24 del 2017 che prevede un consumo del suolo pari a zero di qui al 2050, salvo un 3% in deroga, salvo modifiche ulteriori della legge che al momento non ci sono, ma che alcuni candidati alla presidenza della regione vedo che già prospettano. Però al di là di questo noi cercheremo di fare un piano urbanistico, un Pug generale che cerchi di andare verso sempre più una riqualificazione, una rigenerazione urbana dell'esistente piuttosto che andare a espandere la città consumando ulteriore suolo. Quindi dico questo perché è una sfida importante che abbiamo davanti e infine concludo dicendo che per chi come me, come altri che sono in sala, è credente, crede al creato, vediamo il creato come un valore assoluto, frutto della creazione che dobbiamo preservare per queste e per le prossime generazioni. Quindi dobbiamo essere per la forza dalla parte del suolo, come è il titolo del libro del professore Pileri, perché il suolo è vita, è cibo, è relazione tra le persone, la base di ogni persona, di ogni famiglia. E quindi anche noi amministratori in un momento importante di decisioni amministrative che andremo ad assumere appunto con l'elaborazione di questo nuovo strumento urbanistico cercheremo di far tesoro da quello che emergerà anche da convegni come questo e quindi vi ringrazio nuovamente per questa importante opportunità di conoscenza, di riflessione e di confronto che ci offrite con questa iniziativa che avete organizzato. Grazie. Quando Monsignor Livio Corazza arrivò a Forlì nel 2018, la prima cosa che disse è che bisogna celebrare anche a Forlì la giornata per la tutela del creato. Siamo qua. Monsignor ci porta i suoi saluti, poi sappiamo che lei ha molti impegni, anche se questa data l'ha fissata lei, lo ricordo. Sei un maestro dei sensi di colpa. Sì, è vero, però quella volta il calendario era vuoto e adesso si è riempito di mille robe. Però questa è la più importante, perché questa è l'iniziativa proprio direttamente della pastorale sociale del lavoro che ringrazio. È anche vero, adesso a questo punto continuiamo, è anche vero che io propongo di farlo proprio all'inizio di settembre, in cui nessuno di sicuro fa delle cose. Sono già tanti che rientrano dalle ferie, credo che sia importante. Perché dico questo? Perché non c'è una giornata del creato, è una giornata, è il tempo del creato. Questo l'ha voluto Papa Francesco che inizia dal primo settembre e termina il 4 ottobre di ogni anno. E questa è un'occasione, non tanto per promuovere delle conferenze, neanche questa, è una conferenza, ma propone un'occasione per prendere sempre maggiore consapevolezza, quindi è un tempo di spiritualità. Ricordo che il tempo del creato, come Chiesa Cattolica, l'abbiamo imparato, esportato, copiato, e lo viviamo insieme con le comunità ortodosse da dove è nato ancora tanti anni fa. E quindi ci lasciamo ispirati da questo. Ma, dicevo, non è semplicemente l'occasione per organizzare delle conferenze, ma anche per fare il punto su alcune iniziative concrete, spiritualità e concretezza. Questa stasera viene presentata in particolare una, il Bosco di Pieve Aquedotto, ci sarà il Presidente Bagnara che lo presenterà in particolare. A proposito, il Bosco sta crescendo, molto bello, lo vedete a Pieve Aquedotto, e quindi, ma insomma, adesso non voglio spoilerare come si dice quello che dirà il Presidente, ma anche ci sono altre iniziative molto semplici, anche semplicemente di piantare degli alberi, in alcune iniziative sono 6-7 oramai nelle nostre comunità, ma è anche più consistente. ricordo che almeno due parrocchie hanno aderito e hanno proposto, sono state riconosciute nel progetto delle comunità energetiche, ecco, quindi c'è un impegno, naturalmente si spera che anche altri si uniscono. Ecco, diceva giustamente, non è semplicemente un'occasione per parlare dell'ambiente, come molto recentemente si fa. Ricordiamo che veniamo da lontano da questo punto di vista. Il prossimo anno, non a caso, celebreremo gli 800 anni del Cantico delle Creature, ecco, per dire che oltre ad essere una pagina, diciamo così, tra le prime iscritte in italiano, oltre che parlare appunto di ambiente, di creato, parla di creature appunto, esprimendo in questo modo un atto di fede per un credente, il creato è come un regalo di nozze, per un altro può essere semplicemente un oggetto qualsiasi, anche se bello, importante, prezioso, per uno sposo o una sposa, regalo di nozze, ha un valore simbolico molto di più. Per noi tutto ciò che sa di creato parla del creatore. Ecco, quindi ringrazio ancora anche voi qui presenti. La comunità cristiana in genere è sensibile su questo, ma naturalmente va sensibilizzata. Diceva giustamente Luciano che ci sono anche altre iniziative. Quest'oggi, per esempio, questo pomeriggio è iniziato con la prima iniziativa, quella che parla di migrazioni, da cui anche partecipa il nostro Ufficio Migranti, e anche per sottolineare come molto spesso gli immigrati che vengono accusati di venire a invadere sono in fuga, molto spesso, anche da zone che sono colpite da cambiamenti climatici. Quindi, ecco, stiamo attenti, prima di dire e di parlare male, ecco, di queste persone che fugono. Io non ne parlo mai male, ma insomma, voglio dire, ecco, la dignità della persona e anche le cause. Ecco, se parliamo di ambiente qui, di creato, eccetera, poi vediamo come ci sono conseguenze che cadono proprio sulla vita concreta di famiglie, di popolazioni. E poi non possiamo non ricordare anche avere un pensiero a tutta la situazione drammatica della guerra che certamente distrugge uomini, distrugge relazioni, distrugge futuro e distrugge anche, evidentemente, di conseguenza, l'ambiente stesso e il creato. È una ferita costante, aperta, continua, sul quale però non vogliamo reagire, diciamo così, con avvilimento, che verrebbe da dire, ma cosa possiamo fare? Il prossimo anno il Papa Francesco ha indetto il Giubileo titolandolo Pellegrini di speranza. Noi vogliamo essere pellegrini, sì su questa terra, ma di speranza, ecco, anche se tutto qualche volta parla del contrario. Se mi vedete andare via non è perché sono magari in dissenso con quello che state dicendo, ma poi dovrò andare da un'altra parte. Viene il direttore della carità italiana. Io non so quello che mi dico quando lo abbiamo realizzato, ma forse non so, sono per me, 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 sono per me. Grazie. Non mi ascolto. Allora, grazie. L'intelligenza del suolo, mi sembra, e tanto si parla di intelligenza artificiale, addirittura questo che calpestiamo alla sua intelligenza. Poi dalla parte del suolo, il suolo è la pelle del pianeta, dice Pileri, a questo proposito chi volesse acquistare il libro del professor Pileri può acquistarlo in fondo fino ad esaurimento delle copie che abbiamo. Filtrinelli ha garantito che ne ha un'altra quindicina di copie, quindi si può anche andare nei prossimi giorni. Bene, il professor Pileri è, mi dica se sbaglio, docente di pianificazione territoriale al Politecnico di Milano. Io ho scorso un po' il libro precedente e poi alcuni suoi articoli e ci sono delle cose anche preoccupanti perché dice ogni anno in Italia consumiamo circa 70 chilometri quadrati di suolo che cementifichiamo, dati Ispra. E' un suolo cementificato, un suolo di una zona commerciale, poi una volta dismessa non è che si ricostituisse subito il suolo originario, i tempi del suolo sono tempi lunghi. Comunque non voglio anticipare nulla, passo la parola al professor Pileri. Io credo avremmo ipotizzato un 20 minuti come comunicazione, poi vediamo se c'è spazio per domande. Poi noi entro le 19.15 dovremmo chiudere questa sala. Grazie. Ho avviato nel frattempo il cronometro perché tutto è sempre una corsa, non si capisce perché. Bene, vi ringrazio molto, ringrazio molto dell'invito, mi fa molto piacere perché l'avevo dato sì e tanta roba, quindi anzi bisognerebbe ritagliarne delle pagine, appiccicarle ai muri ora che ancora il decreto non è ancora stato approvato, no? Quindi non ci mettono in galera, che sarebbe molto importante. Vi ricordo che la prima forma di natura che richiamate nell'autotossi non è l'acqua, è il suolo. È il suolo, è incredibile questa cosa, ma è il suolo. E quindi direi che non è un caso, nulla in quella enciclica è un caso, quindi pensiamoci. L'altra questione, per rispondere anche a due cose che ho sentito prima di quello che adesso vi dirò, anche seppur brevemente, è che per essere consapevoli, chi non mi ricordo chi l'ha detto, se il vescovo o l'assessore, Don Camillo, eh, quella roba lì, eh, chi l'ha detto? Vabbè, quello che è. La consapevolezza, non è che, come dire, piove e abbiamo la consapevolezza, eccellenza, la consapevolezza, adesso ora chiediamo all'assessore e così abbandona l'aula, la consapevolezza si costruisce. E come si costruisce? A colpi di conoscenze. Allora c'è da chiedersi, tra una alluvione e l'altra, la Regione, il Governo, l'Associazione dei Comuni Italiani, ha proposto un corso di formazione per capire, per esempio, cos'è il suolo agli assessori all'ambiente e all'urbanistica? Guarda che dopo io ho 20 minuti, se no non mi risponde subito mi va via il tempo. È da qui da tre mesi? No, sono qui da tre mesi. Ma le lo dico io. No. Quindi, eccellenza cara, zero consapevolezza. E devo dire che la consapevolezza probabilmente, questo è un problema, che io sollevo da tanto tempo, pensate che roba, no? C'è un enorme quantitativo di soldi, 230 miliardi di euro per la transizione ecologica, senza che dentro questi miliardi di euro, questo l'ho denunciato tante volte, ci sia un solo euro per la formazione di chi decide. Capite che non può funzionare? Chi non è d'accordo con me? Alzi la mano. Tutti sono d'accordo con me. Capite, no? Allora, c'è da chiedersi perché quelli che decidono non hanno chiesto una variazione di questi investimenti affinché imparino, capiscano di cosa stiamo parlando? E' chiaro che fare il Pug oggi, mi occupo di urbanistica, sono professore di urbanistica, fare il Pug oggi e non nel 2018, dal 2017 ad oggi, il comune di Forlì, non so, tanti altri comuni nell'Emilia Romagna hanno approfittato per non sottostare quel 3% e mettere in forno tutte le varianti possibili e immaginabili per consumare il suolo. Questo va detto, perché è così. Quella è una legge che non funziona. Io l'ho detto nel 2016, all'allora assessore regionale che era Donini, avevo le mie regioni per dirlo, oggi sento che qualche candidato, che peraltro so di essere di comuni a grandissima cementificazione, dice che la legge improvvisamente va cambiata, però ormai, ragazzi, purtroppo, come diceva la mia nonna, le vacche dalle stalle sono scappate. E andiamo al suolo. Allora, vedete, la copertina, il titolo, guardate che, il titolo ho, come dire, lavorato molto con la casa editrice per imporre un po' questo titolo, no? Dalla parte del suolo. Perché noi oggi abbiamo bisogno di questo, capire chi è dalla parte del suolo e chi, perché sceglie i compromessi, perché sceglie le mezze parole, perché dice che farà, perché dice che non si sa, non è dalla parte del suolo. Stare dalla parte del suolo significa stare da un altro modello di urbanistica, che è doloroso, intendiamoci anche per i cittadini, perché pensavano di fare l'ampliamento del box, del, no, non si potrà più fare questa cosa, non si potrà più fare. Però la questione, tornando alla consapevolezza, io stamattina sono andato a farmi un po' di giri vicino agli argini del montone e ho interrogato un po' di persone e mi sono accorto che ai cittadini non gli è stato spiegato un tubo di quello che è successo. E questo è grave, è molto grave. E quindi la loro narrazione, che trattengono, è solamente quella di stanno facendo, hanno fatto poco. Ma cosa hanno fatto? È quello che hanno fatto? Siamo sicuri che è quello che c'è bisogno di fare? Ma quali sono le cause? Una delle cose che ho chiesto, sono stato anche nell'Appennino più volte a visitare i luoghi delle frane e chiedere anche ma c'è stato un grande laboratorio di riflessione politico-ecologica su quello che è successo? Questo è attuare la radotosia, il resto sono balle. Questo è attuare la radotosia. Cioè, dopo l'emergenza, perché l'emergenza è una grande fregatura, sia chiaro. Guardate, andate in Feltrinelli o nelle librerie indipendenti che è ancora meglio, ma adesso Feltrinelli si arrabbi. C'è un libro molto bello di una filosofa francese che consiglio anche nel mese del creato, che è Strategia dell'emozione. Si chiama così il titolo, segnatevelo. Hans et Sir Robert, Eleutera Edizioni. Molto bello questo libro perché questo libro lavora sul fatto che oggi noi usiamo molto l'emotività per scappare dalla spiegazione delle ragioni. E non va bene. Cioè, noi dobbiamo capire perché è successo quello che è successo. E quello che è successo è sicuramente un sacco di acqua, ma, come faccio vedere sempre ai miei studenti, una cosa, guardate, è di una semplicità incredibile questo schema. Il suolo fa tante cose, solo uno spessore, è una spugna. Se dovessi farvi vedere, se dovessi farvi vedere, non so se è giusto, ma non fa niente, me lo perdonerete. Solo al microscopio è questa cosa, è una spugna, va bene? Quindi ha una grandissima capacità di trattenere l'acqua. Attenzione, non farsi passare, attraversare dall'acqua, ma trattenerla. Addirittura, quando piove, proprio perché è fatto in questo modo, e il fatto che trattenga l'acqua è la grande fortuna delle piante, perché le piante non è che hanno delle radici che arrivano a chilometri di distanza in profondità e vanno a cercare le falle, sono balle questa cosa qua. Le piante usano quello che trovano nel suolo, appena lì sotto. Quindi è fondamentale che il suolo non sia cementificato, non sia compattato, perché diversamente non riuscirebbe a trattenere così tanta acqua, il suolo è fatto per metà di aria e acqua, pensate che roba. Un ettaro, diecimila metri quadri, arriva a trattenere fino a quattro milioni di litri, centocinquanta tir di bottiglia d'acqua, pensate che roba. Quindi è evidente che ogni volta che io cementifico, modifico la capacità di trattenimento dell'acqua da parte del territorio. Vedete questo schema che facciamo sempre vedere, molto semplice, a sinistra piove, non come in questi giorni per carità, ma piove, metà dell'acqua entra nel suolo, vedete, 25-25, 25 rimane nel suolo, 25 va nelle falde. Quando vi spostate a destra, come è successo nel caso delle ragioni Emilia-Romagna, le cose peggiorano, come sempre quando ci si sposta a destra? Voi siete una giunta di destra? È un problema vostro, mica mio. E cosa succede quando ci si sposta a destra, cara giunta di destra? Non lo sapevo nemmeno, non mi sono informato, non mi informo mai se è di destra o sinistra, perché a volte poi il problema è che non trovo le differenze e poi mi intristisco, capito? Ecco, questo è un problema. Allora, detto questo, vedete a destra cosa succede? urbanizzo e vedete l'acqua che si infiltra nel suolo? Non è più 50, ma è 15. Ma attenzione a un'altra freccettina, quella orizzontale. A sinistra è 10, quindi 10 gocce di 100 rimanevano sul suolo e scorrevano l'alluvione che va nelle vostre cantine, ma a destra è 55, vuol dire sei volte di più. Quindi è evidente che se io cementifico, quindi tappo tutto, succede questo. Certo, poi ho l'evento, come dire, fuori proporzione, come in questi anni, ma che è dovuto comunque al fatto che abbiamo cementificato, anche è dovuto al fatto che abbiamo cementificato e di conseguenza abbiamo alterato gli equilibri idrologici, abbiamo alterato gli equilibri di risposta termica e di conseguenza aumenta la temperatura e bla bla bla. quindi il fatto che noi abusiamo del territorio produce e contribuisce al cambiamento climatico e in più non c'è più, non sono le bombe d'acqua, basta parlare di bombe d'acqua, anche stamattina ne sentivo parlare, vietato parlare, il problema è bombe di cemento, va bene, che hanno modificato la capacità di risposta dei nostri territori. Questo accade nell'urbanistica, accaduto tantissimo, anche purtroppo, lo dico con grandissimo di spiacere in questa regione, accade anche per la cattiva agricoltura, sia chiaro che anche l'agricoltura ha un contributo importantissimo nella impermeabilizzazione dei suoli e quindi è chiaro che tutto il sistema deve reggere una maggiore incapacità di gestire acqua e quindi te la ritrovi poi in fondo a quella che noi chiamiamo la sezione di chiusura, ovvero in fondo a quelli che sono i corpi idrici superficiali, i torrenti, i piccoli fiumi e così via, canali e quindi ne trovi tantissima che arriva in un tempo ancora minore e quindi è questo. Dopodiché l'Emilia Romagna è fatta così. Ora, questa cosa io faccio parte del Comitato Scientifico del Rapporto Nazionale sul Consumo di Suolo dell'Agenzia del Governo Italiano, pensate che forse non lo sa neanche di avere un rapporto sul consumo di suolo. Non so se l'assessore dell'Urbanista dell'Ambiente l'ha visto mai il rapporto nazionale sul consumo di suolo. Ok. Siamo sicuri? Questo è importante, dovrebbe stare lì appiccicato sulle scrivanie di tutti i sindaci. C'è dentro questa mappa che fa vedere che l'Emilia Romagna è una regione così è. Non così è se vi pare, così è. Questa è la vostra regione. Quindi tutto quello che vedete in azzurro è tutta area alluvionabile. Va bene? Questo lo diciamo da vent'anni. Io però stamattina ho visto ancora dei pluricondomini costruiti a fine dell'anni 90 appena al di là dell'argine. E beh, non è che queste mappe non c'erano, ma c'erano, eh? Sia chiaro. Vabbè. Quindi, questa è la situazione. In quest'area qua, purtroppo, come abbiamo detto, poi il presidente della regione si è particolarmente arrabbiato con me. Pazienza. Mi spiace, ovviamente, perché non è che io ami. Però il consumo di suolo, la cementificazione, il tappo che uccide il suolo, fate conto che la regione Emilia-Romagna è da anni la terza regione in Italia per consumo di suolo. Siamo a 700, 600 ettari all'anno che vengono completamente cementificati. E in più, come vi dicevo prima, abbiamo un'agricoltura molto industriale, molto intensiva che ha modificato di molto la capacità di risposta dei suoli. Altro problema. Ma quella freccia bianca in corrispondenza dell'Emilia-Romagna fa vedere che fondamentalmente, guardate la colonna centrale che è quella che dice che 433 ettari, lo dico io, su 634 dell'anno scorso, di due anni fa, scusate, sono stati cementificati proprio nelle aree alluvionabili. Ok? Questo è capitato nel 2022, non negli anni 40-50, così ognuno non ha responsabilità. nel 2022 dove anche qui, anche a Cesena, anche a Ravenna, anche a Faenza, c'è una mancanza di consapevolezza, come avete detto voi prima, su quello che è successo. Ecco, questo è per dire Faenza. Questo credo che è un caso che abbiate tutti sotto mano, quindi famoso a casa sul fiume, ma quello che è più interessante è ancora questo. Non so se avete seguito il caso dell'orto dell'Aghilana, una piccola lottizzazione che era già stata segnalata dai comitati locali di Faenza, prima ancora dell'alluvionare del 2023, come dire, guardate che lì non potete urbanizzare, i cittadini l'hanno detto, ma perché quella lì, mio nonno mi diceva che veniva l'acqua. Niente, il comune è andato avanti. 2023 è arrivata l'acqua, un metro e mezzo d'acqua e allora i cittadini, i comitati hanno detto beh beh, l'avrà capito il comune. Andata via l'alluvione, il comune ha confermato l'ortizzazione, però con delle varianti che non si sarebbero più fatti i box sotterranei. E quindi i meccanismi di consapevolezza e vedete che sono molto scarsi, perché in realtà noi abbiamo questa, probabilmente abbiamo questa convinzione di essere dei supereroi. Noi prendiamo delle ruspe sempre più grandi, va bene, facciamo degli argini sempre più alti, perché così ce la caviamo. La storia non è più questa, non è più questa la storia. La storia che dobbiamo, noi oggi abbiamo bisogno di sindaci che tolgono, non di sindaci che mettono. Abbiamo bisogno di sindaci che tolgono, votate gente che toglie, non gente che mette. Va bene? E questo è importante. Io oggi non so for lì quante case non utilizzate ci sono, quanti capannoni non utilizzati ci sono. Perché andare a fare altri supermercati quando tu hai dei capannoni già esistenti? Per dire, no? Visto che ne è stato fatto uno pochi, anni fa, mi sembra, ma pochissimi anni fa, che inizia con l'A e finisce con l'I e ci sono poche lettere in mezzo. Che è andato sotto anche lui. È vero. Non è una roba degli anni 50, 60, no. Quindi è chiaro che oggi poi molti sindaci mi dicono ma non abbiamo gli strumenti legali per togliere l'edificabilità. Ma le avete chiesti? È vero che non ci sono ma il ruolo della politica è esattamente suscitare la presenza di cose che non ci sono. Eh sì, eh. Non occuparsi delle cose che ci sono che possono oggi essere errori. in pancia dei comuni dei piani urbanistici dell'Emilia Romagna c'è una valangata di previsioni. Ovviamente artefatte. Si faceva finta che tutti si separavano e tutti avevano bisogno di un'altra casa. Si faceva finta che crescevano incredibilmente il numero di abitanti. Delle cose incredibili. Pur di avere questi grafici che andavano su e quindi potersi permettere nuove previsioni. Senza rendersi conto che poi non avevi gli strumenti legali per toglierli. Ma lo sapevano, eh. Tutti sapevano questa cosa. Che non c'erano gli strumenti legali. Il guaio è che poi chi decide non chiede una riforma normativa per avere questi strumenti legali. Quindi è responsabilità anche non chiedere questa cosa, eh. Perché non abbiamo a livello nazionale una norma di tutela del suolo. Tutti si mettono in bocca destra e sinistra che dobbiamo farla, dobbiamo farla, ma vi assicuro, ve lo dico perché io stesso ho scritto una di queste norme depositate in Parlamento, depositate, è rimasta lì a prendere la polvere. Né la destra, né la sinistra, né in mezzo, né sotto, né i movimenti, né i sottomovimenti, si sono occupati di portarla avanti. Quindi è chiaro che c'è un blocco di cemento che non aiuta a capire cosa succede e quindi poi abbiamo tutti questi pasticci. Come reagire? Ah, una cosa. Adesso non abbiamo tempo perché quanto tempo? Ah no, 17 minuti. Wow, c'è ancora tre minuti pieni. Vabbè, queste sono pillole ma poi voglio dire se avete voglia potete vederlo sul libro o comunque scrivo anche tanti articoli ma comunque anche altri colleghi per carità e amore. Però c'è, è importante inventarsi dei laboratori. Cioè, i sindaci qua non si stanno parlando tra di loro se non quando c'è l'emergenza. Ma dobbiamo uscire dall'emergenza e capire a sangue freddo cosa fare. Questa è la cosa importante. La protezione civile con cui tutti i sindaci si vestono di giallino all'occorrenza a me interessa poco perché abbiamo bisogno della prevenzione civile e su cui bisogna lavorare e studiare. E questo sì perché se no noi veniamo fuori. Per esempio, il suolo come c'è scritto qua è il secondo regolatore climatico. Sapete che non sono le piante ma il suolo non sono gli alberi. Anche se come dico anche a Milano piantare un albero è salutare per i selfie politici perché tu ti fai un bel selfie su un albero pronto effetto e viene bene. Fallo sul suolo devi inchinarti è un pasticcio e non viene bene. Quindi ma in verità dovete pensare che gli alberi sono come delle siringhe va bene che prendono CO2 gas clima alterante dall'atmosfera fotosintesi clorofiliana la faccio breve trasformano in glucosio e lo iniettano nel suolo. La metà del glucosio che genera una pianta lo iniettano nel suolo. Solo quando va nel suolo quel glucosio e quindi il carbonio sottratto tanto carbonio sottratto dall'atmosfera non uscirà più. Ma fin tanto che rimane nella pianta dura quanto il ciclo di vita della pianta. Se ti va bene 300 anni tra crescita e morte ma se ti va bene va bene? Quindi non funziona così. Quando invece il glucosio entra nel suolo stiamo parlando di 2000 4000 anni capite che c'è un po' di differenza. Quindi va benissimo le piante nessuno dice di non fare piante ma certo che bisogna fare piante ma le piante non esistono da sole le piante ripeto fanno questo lavoro meraviglioso di fotosintesi che non siamo capaci di fare ma dimentichiamo che il pezzo che a noi interessa è ficcare quel glucosio dentro il suolo e lì allora qui bisogna anche trovarsi trovare dei nuovi linguaggi per raccontare cos'è il suolo se io vengo a Forlì e passeggio ma dove lo vedo il suolo? Nei cantieri nei buchi un disastro dove mi si racconta cos'è il suolo? Allora questo qui vedete un'immagine di un piccolo esperimento che abbiamo fatto in un comune agricolo molto problematico dove c'è un sindaco che ha accettato questa sfida e abbiamo per esempio coinvolto un artista proviamo a usare anche degli altri linguaggi perché i professori sono noiosi i tecnici sono ancora più noiosi dei professori o fanno a gara insomma i politici non sanno le cose o solo le sanno non sanno raccontare non si capisce più niente allora proviamo basta a usare altri linguaggi per esempio quelli artistici può essere why not sapete cosa sono questi? c'è scritto? no questo è un murale se lo vedete fatto su delle facciate private ma con un finanziamento pubblico quindi pubblico privato lascia fare quello che piace oggi no? e cosa sono queste cose? qui tutti fanno gli agricoltori quindi in realtà incredibilmente tutti avrebbero saputo avrebbero dovuto sapere cos'era invece ahi noi si è persa conoscenza queste sapete cosa sono? sono micorrize che sono queste micorrize? che me ne faccio delle micorrize? eccole qua è quello che dicevamo prima sono dei funghi i funghi sono dei filamenti che stanno nel suolo e vivono solo nel suolo e sono loro che si ciucciano quel glucosio che vi dicevo prima e danno in cambio alle piante azoto e fosforo e sono come dei bendaggi attorno alle radici e vivono nei primi 30 centimetri di suolo sono una delle componenti incredibili di vita del suolo ma a volte la gente non lo sa non capisce nessuno gliel'ha mai raccontato guardate quanta gente che vive nel suolo 9 miliardi di unità di vita in un cucchiaino capite quanta vita c'è ma dove è scritta questa cosa? voi pensate che nel piano urbanistico di Forlì ci sia scritta zero voi pensate che nella legge urbanistica delle miliardi romani ci sia scritto questo? zero ma zero eh cioè non è visto come ecosistema il suolo e il fatto di dire che al 2050 ridurremo è una è una cretinata che al 2050 se andiamo avanti così ci auto riduciamo noi aver scritto una legge per dire che fra 30 anni io ridurrò è una presa in giro molto semplice anche a livello europeo eh intendiamoci noi oggi dobbiamo non vedete che arrivano una dopo l'altro un anno dopo l'altro le alluvioni e noi ci mettiamo per fare il pug nuovo a Forlì a Cesena a Faenza ci mettiamo 5 anni ma non abbiamo capito allora qual è l'ordine e la scala delle decisioni che dobbiamo prendere i cambiamenti climatici sono lì che accelerano 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 noi ci mettiamo anni a decidere di cambiare no? non può funzionare l'altra cosa che non può funzionare è che come dicevo all'inizio è davvero importante i processi di formazione guardate vi faccio vedere un'altra immagine terribile è a due passi da voi siamo nelle Marche altra alluvione altri morti devastante quando c'è stato in Emilia c'è stato poco prima nelle Marche beh ma com'è possibile che che in quel comune tre mesi dopo mi organizzano laddove c'erano tutti i mobili le masserizie uscite dalle case com'è possibile che sgombri tutto e mi fai una bella gara di motocross ma stai capendo di cosa stiamo capite? però la cosa che dobbiamo anche purtroppo dirci che non ci siamo indignati per questa roba non ci siamo indignati non ho visto tecnici comunali assessori preti eh dobbiamo dirci la professori universitari così ci metto anch'io ci mancherebbe legati a dire ma che state facendo e quindi è chiaro che se l'indignazione su che cos'è il suolo e come lo si sta maltrattando cos'è un luogo così delicato come la costa eh e non capiamo che li stiamo maltrattando e nessuno si indigna forse effettivamente quel tema della consapevolezza sta a vedere non c'è e infatti c'è un altro libro molto bello che potete ordinare nella libreria indipendente o in Feltrinelli così andiamo a pari di un collega di Padova che si chiama Adriano Zamperini che gli faccio sempre pubblicità perché ha scritto un libro molto bello che si chiama violenza invisibile lui è uno psicologo psicologo sociale ma si è sempre occupato di temi ambientali e di disastri dell'uomo verso l'ambiente anche qui vedete che non li chiamo disastri ambientali ma sono disastri dell'uomo sull'ambiente eh la ilva di Taranto non è un disastro ambientale sia chiaro Augusta in Sicilia non è un disastro ambientale è un disastro all'ambiente perché noi struciamo un pochettino aggettivi e parole ecco e lì c'è scritto che se vogliamo uscirne dobbiamo fare tante cose ma sicuramente essere comunità epistemiche per usare una parola un po' complessa che vuol dire consapevoli molto consapevoli e quindi oggi io anche un po' come dire antipaticamente chiedo ai sindaci sai cos'è il suolo sì o no non mimom sì o no se no non lo fai sindaco non lo fai perché il tuo potere è quello di cambiare il destinazione d'uso dei suoli pensate questo è un potere esclusivo dei sindaci italiani degli assessori all'urbanistica cambiare il destino d'uso dei suoli ma se non sai cosa è il suolo è incredibile ma voi andreste a farvi operare di appendicite dal droghiere che magari di appendicite sa anche qualcosa no nessuno di noi no quindi abbiamo un problemino importante non è per ma lo dico anche ai tecnici all'urbanistica sia chiaro quindi lo dico anche a me stesso è importante quindi è importante che ci siano dei momenti di questo tipo ma non perché abbiamo imparato cos'è il suolo ma perché spero ci siamo fatti venire parecchi dubbi su cos'è poi potrei dirvi ma lo trovate anche sul libro le guerre in questo momento Israele sta distruggendo i suoli di Palestina non solo 40.000 persone ma anche i suoli sia chiaro perché così almeno quelli che rimangono siamo sicuri che non si riprendono e questa roba non è nemmeno denunciata sui giornali italiani disastro poi abbiamo l'agricoltura abbiamo detto poi abbiamo le plastiche nei suoli lo sapete che siamo pieni di plastica anche stamattina camminavo sull'argine i miei occhi vedevano la plastica la vedevano la plastica ce l'abbiamo pure davanti alla settimana del creato miglioreremo e la vedevo la plastica c'è più plastica nei suoli agricoli ormai che nell'oceano sia chiaro questo c'è un rapporto FAO che ha gettato l'allarme che vuol dire lavorare anche con l'agricoltura quindi sarebbe anche interessante dialogare con altri poi abbiamo le olimpiadi e beh poi abbiamo la transizione energetica altro problemone perché è sregolato dall'uso del suolo anzi in questo momento sugli appennini anche qua anche gli appennini romagnoli c'è qualcuno che sta bussando ai pochi che sono rimasti per dire tanto guarda le tue terre non le usa nessuno lascia fare sai che famo le dai a me e te le pago anche un sacco e ci facciamo un grande impianto fotovoltaico che da un punto di vista delle rinnovabili può essere interessante ma da un punto di vista di gestione degli equilibri ecologici di quel versante anche no e così anche l'agricoltura oggi non fa più non usa più i terrazzamenti perché oggi le macchine cingolati che possiamo usare sugli appennini ci consentono di fare delle colture disastrose lungo le linee di scorrimento come si chiamano adesso mi sfugge però e quella lì è un disastro perché va giù tutto evidentemente e così via due numeri e vi lascio questi sono i numeri dell'Emilia Romagna in termini di consumo di suolo quello che vi ho detto prima è 600 e passa però ecco ci tenevo a farvi vedere la quota di cemento sulle spalle di ogni cittadino dell'Emilia Romagna perché è tanta ecco questi sono i numeri 446 metri quadri di cemento per ogni abitante la media italiana è 364 quindi vuol dire che siccome questa regione vuole l'autonomia differenziata se non mi ricordo male il suo presidente l'ha chiesta poi magari oggi ci ha ripensato però io ho i video disastrosamente mi spiace ma riusci poi se ci ha ripensato sono felicissimo però pensate che disastro vuol dire che anche adesso si sta parlando di assicurazioni perché come scamutage per uscire dal pasticcio anziché cambiare noi modo di aggredire il territorio che invece è quello che dobbiamo fare attenzione perché voi avete questi numeri in tasca questi numeri vuol dire che il costo del danno pro capite in questa regione è maggiore che in altre quindi teoricamente la tassazione locale dovrebbe essere maggiore non minore perché se devi gestire più cemento ovvero hai tolto i servizi che la natura fa gratuitamente quelli che noi chiamiamo servizi ecosistemici perché hai cementificato allora se hai cementificato tanto devi pagare tanto questo si sta dicendo anche in Europa quindi attenzione perché poi l'autonomia differenziata siccome si porta via anche il punto S dell'articolo 117 della Costituzione andate a vedervi ovvero la gestione degli ecosistemi sta in capo le regioni disastro culturale disastro culturale e significa che poi questa roba questi numeri qua che già tra ricercatori in Europa già discutiamo anche in Germania dicono ok ogni lender si pagherà il suo pezzo e così ogni provincia vedete provincia di fuori Cesena ha 441 anche lei è tanto per abitante e quindi se noi continuiamo a fare supermercati è evidente che aumenta perché poi bisogna fare i parcheggi perché poi bisogna e bla bla questo è il numero della regione che piaccia o no da tanti anni è così è un po' diminuito è vero il consumo di suolo in questi anni meno male bene ma non è diminuito perché c'è una grande volontà politica perché ancora mi sembra all'anno scorso il numero di comuni che avevano fatto il Pug e quindi erano entrati in un meccanismo di rallentamento erano ancora pochi quindi vuol dire che di fatto i sindaci non rallentano e quindi questo è un grosso problemino questi sono 11.000 ettari vedete dal 2006 al 2022 ma la Lombardia è peggio io arrivo da Lombardia lo dico subito la Lombardia è enormemente peggio noi consumiamo 908 ettari all'anno contro i vostri 632 adesso non ricordo 634 quindi noi siamo messi ancora peggio sia chiaro quindi non posso dire nulla ma 11.000 ettari sono 110 chilometri quadri cementificati in 16 anni è chiaro che la quota d'acqua che tu hai in superficie devi gestire è tanta non so se mi sto spiegando è tanta questo è un po' di numeri vero che è diminuita la cementificazione a Forlì Cesena vero ma rimane ancora alta perché ancora 16 ettari a fronte di abitanti che non aumentano parliamone rimane un problemino non è che siccome diminuisci wow bravo certo meglio aumentare fuori di dubbio ma è chiaro che abbiamo il traguardo è zero lavorare anche accompagnare lentamente il settore edile a lavorare sul recupero solo questa è un'altra cosa che l'accompagnamento in questo momento non c'è e non si fa solamente con ristorie guardate questa idea di avere messo in bocca ai cittadini solamente la parola ristoro che è comprensibile perché uno al momento deve ricomprarsi l'auto deve rimettere in piedi un'impresa ma ci mancherebbe siamo tutti d'accordo ma non può funzionare solo questo non riusciamo a cavarci solo così dobbiamo modificare il cambio di vivere di abitare i nostri territori e di vedere e di vedere il suolo che non vediamo questi sono un po' di numeri vedete che poi sono importanti cesena ognuno fa la sua parte cesenatico e bla 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 e così via dove ci fermiamo qual è la speranza due cose dico bisogna fermarsi consapevolezza l'abbiamo detto stiamo superando i dieci minuti non va bene l'altra cosa che io non vedo ancora è la depavimentazione ve l'ho già detto noi abbiamo bisogno oggi di una sapere di una sapienza politica che tolga e nessuno vi assicuro che nel destra e nel sinistra stanno chiedendo finanziamenti per depavimentare non abbiamo un capitolo di spesa dello Stato italiano per fare questa roba che pensate Isabella e Bettina in Svizzera sta circolando un video tra di noi in questi giorni sono due donne che hanno preso un caterpillar una ruspa di quelle che vedete qua in giro e si sono messe a togliere asfalto da qui le metterebbero in galera anche se sono due lì le hanno fatte eroe nazionali perché loro stanno dicendo guardate che basta i cambiamenti climatici ci stanno dicendo noi dobbiamo togliere asfalto non aggiungerlo e queste vanno in giro a togliere asfalto e i cittadini sono contenti da noi se togliessero asfalto davanti a casa vostra probabilmente chiamereste i carabinieri non pensate quindi perché lì però accade qui no non perché noi siamo cattivi loro sono buoni potremmo dire il contrario forse non lo so non mi interessa perché c'è una consapevolezza ecologica è il tema di prima più matura nostra quindi non è nemmeno giusto additare solo i politici di questa cosa è un lavoro che bisogna fare in grande cooperazione di cambiamento questo è molto importante quindi ecco quindi per quello che finisco ancora capendo chiedendoci tra di noi quanto vogliamo stare dalla parte del suolo o no questa è una bellissima frase finale di Margherita Yorsenar che diceva che nessuno ha il diritto di trattare la terra come Lavaro il suo gruzzolo d'oro Memoria Adriano altro libro che potete comprare pur usato secondo me ma che è impossibile non leggere perché non riesci a vivere se non leggi quel libro perché è meraviglioso lì c'è scritto tutto come devi vivere statemi bene che devo dirvi il professore ha lanciato qualche sasso in piccionaia io ricordo una delle primissime frasi a proposito dell'audato sì che è il nostro comunque punto di riferimento parla di rapidazione all'inizio usando un termine spagnolo rapidazione cioè occorre diminuire l'accelerazione oppure diminuire la velocità a tutti i livelli probabilmente forse ci sono molti passaggi leggetela molto bene perché ci sono delle cose incredibili per esempio c'è un punto il 114 o 141 non me lo ricordo mai a memoria che dice che ogni mediazione ogni compromesso è un'accelerazione verso il disastro questo lo dico perché la politica ama la parola compromesso eppure dice così la enciclica dice che ogni compromesso anticipato prima di capire qual è la soluzione è un'accelerazione verso il disastro ora dite al Papa che ha sbagliato no dice la nostra diocese ha stilato qualche anno fa un vademecum dove la logica è questa chi ha potere decisionale ha comunque una grossa responsabilità ma anche noi cittadini abbiamo la nostra quota di responsabilità architetto Bazzocchi la sua relazione porterà il titolo consumo di suolo servizi ecosistemici e adattamento climatico sembra che ci siamo messi d'accordo saluto Monsignore lei si mette qui io sto qua così vedo anche sopra 18 e 5 20 minuti va bene 20-25 minuti mi piacerebbe smentire il professore su tutto perché vorrebbe dire che siamo bravissimi abbiamo già risolto tutti questi enormi problemi che lui ci ha evidenziato ovviamente non è così però su qualcosa magari come dire forse se non è totalmente informato su Forlì magari gli possiamo raccontare che qualcosina in questi anni abbiamo fatto complice anche un percorso visto che si parlava di consapevolezza di un progetto europeo che io ritengo una grandissima esperienza che ho fatto insieme con dei colleghi che ci ha formato su tutte queste tematiche cioè capire qual è il valore del suolo il valore dei servizi ecosistemici e nel corso di questo percorso che abbiamo fatto oltre a imparare tante cose a confrontarci come sempre più deve essere a livello multidisciplinare con persone che sanno di suolo così come noi sappiamo di urbanistica quindi noi abbiamo avuto a che fare con pedologi del CNR con pedologi della regione e noi abbiamo portato come dire le nostre conoscenze abbiamo cercato di incontrarci e confrontarci poiché ognuno si occupa di alcune cose e il risultato doveva essere quello di cercare di migliorare la pianificazione e però abbiamo fatto anche molta disseminazione molti eventi molte iniziative a cui ha partecipato effettivamente un sacco di gente tante volte non solo tecnici a volte anche amministratori locali e quindi devo dire che questo tema della consapevolezza abbiamo cercato oltre che averla acquisita noi come tecnici in questo percorso di trasmetterla anche ad altri vabbè due o tre immagini non c'è bisogno di ricordare i forlivesi quello che è stato l'alluvione del 16-18 maggio 2023 ma semplicemente perché come diceva già il professore evidentemente c'è una correlazione fra tante cose e c'è una fortissima correlazione anche su come noi gestiamo il suolo evidentemente l'alluvione è frutto del cambiamento climatico che è un tema di emissioni climalteranti però come questa diciamo alluvione come questi effetti ricadono sul territorio sulle persone sui beni sulle aziende dipende da come noi abbiamo gestito il suolo quindi gli effetti possono essere amplificati qui vediamo all'epoca una delle prime elaborazioni da parte del Copernicus Emergency Management che fece così puntino secondo una foto interpretazione quelli che erano stati qui è una parte della città agli edifici colpiti nell'immediatezza diciamo di quell'evento alluvionale potete vedere con questi colori quanto più è denso il viola quanto più sono state forti le precipitazioni in quel momento lì poi però queste cose come diceva il professore sappiamo ben tutti che sono sempre più frequenti quelle che diciamo volgarmente chiamiamo bombe d'acqua sono dei nubi fragili sono delle precipitazioni molto intense concentrate in poche ore hanno portato in crisi forlì il 25 maggio il 26 giugno con allagamenti localizzati perché poi non è che piove uguale in tutte le zone della città e sicuramente anche chi è lontano dal fiume si è trovato le cantine lagate io mi sono trovato la cantina lagata a quei due giorni lì a distanza di un mese poi me la sono trovata lagata dieci giorni fa e sono lontano dal fiume quindi questo è l'ultimo 18-19 settembre dove in totale in tre giorni sono piovuti 215 mm di pioggia diciamo che poi il nostro territorio è stato tra virgolette un po' più graziato rispetto ad altri che hanno avuto situazioni disastrose molto di più per quanto queste sono foto del nostro territorio ci siano tratti di campagne allagate sappiamo benissimo che ci sono alcuni quartieri per esempio San Benedetto che si sono allagati nuovamente le temperature estive il tema dell'isola di calore in città sono un'altra delle facce diciamo dell'urbanizzazione di come l'urbanizzazione diciamo che c'è stata in tutti questi anni la crescita della città fa i conti con gli effetti del cambiamento climatico che abbiamo detto sono principalmente dovuti sempre all'azione dell'uomo e ai gas climateranti che abbiamo rilasciato e continuiamo in qualche modo a rilasciare le temperature sono andate crescendo dicevo questa esperienza molto importante che ha cresciuto la consapevolezza di un piccolo gruppo di tecnici del comune di Forlì che poi hanno cercato di trasmetterla ai colleghi e via via agli amministratori con cui hanno avuto a che fare ma anche di trasmetterla a colleghi di altri comuni un po' in tutta Italia perché abbiamo fatto eventi a cui hanno partecipato persone da tutta Italia è stato questo progetto che aveva questo obiettivo diciamo ambizioso se vogliamo ma comunque bisogna che gli obiettivi siano sempre ambiziosi di provare a ragionare dell'applicazione di questo di questo indirizzo a livello europeo perché ancora non abbiamo una direttiva europea sul suolo se ne sta discutendo adesso ma all'epoca era un indirizzo diciamo di arrivare al consumo netto di suolo zero al 2050 e quindi di provare a capire come si poteva fare a livello locale per diciamo pianificare in modo da andare in questa direzione il professore ne ha già parlato prima il consumo di suolo comporta la perdita di tutti o di gran parte dei servizi ecosistemici che si offre che sono tantissimi quindi è evidente che bisogna introdurre il limite normativo sappiamo benissimo lo dice il professore ma sappiamo benissimo anche noi come tecnici che la nostra legge regionale per quanto sia come dire una di quelle più avanzate in Italia su questo tema in assenza di una legge nazionale in assenza di una direttiva europea ha dei limiti ha dei limiti cioè pone dei limiti al consumo di suolo ma al tempo stesso in realtà se ci si va a leggere la legge esistono dei fatti salvi tale per cui con i meccanismi della legge in realtà una quantità di suolo si consuma ugualmente senza contare quello che prima ha accennato il professore che nella fase del periodo transitorio che è durata anche un certo numero di anni è stato possibile fare salve le previsioni edificatorie e conformarle giungendo al convenzionamento di piani urbanistici senza che questo vada a incidere sul famoso 3% di cui si parlava quindi in realtà il tema Forlì del consumo di suolo comincerà a calare fra un certo numero di anni e non comincerà a calare immediatamente per effetto del Pug perché il Pug dovrà fare i conti col fatto che sono stati approvati nel periodo transitorio ovviamente per precedenti previsioni un po' come tutti che si fa fatica diciamo a cancellare che si può tentare di cancellare ma si fa fatica a cancellare sono state confermate molte previsioni edificatorie alcune sono saltate non sono andate in fondo perché non c'era evidentemente interesse da parte del mercato non c'era la forza economica di garantire le fedevisioni che ci devono essere a fronte di questi interventi però ci sono previsioni edificatorie che oggi sono conformate quindi teoricamente si potranno realizzare molto più consistenti del 3% con cui dovremmo avere a che fare da qui al 2050 nel rispetto della legge il tema che noi avevamo cercato di affrontare in questo progetto che era poi già raccontato in queste linee guida dell'Europa del 2013 2014 era quello di agire sul fronte della limitazione del consumo di suolo della mitigazione e poi una parola che sicuramente Pileri non vuole sentir dire della compensazione del consumo di suolo il tema della limitazione sicuramente il primo livello della limitazione si può fare anche a livello locale e le amministrazioni io credo debbano farlo in quelle che sono le loro possibilità in primo luogo va fatto a livello di legge quindi dicevamo stiamo attendendo questa direttiva europea da tanti anni se ne sta discutendo adesso si spera che vada in porto attendiamo una legge nazionale su questo fronte le regioni hanno fatto ognuna in base alle loro possibilità quello che hanno ritenuto di fare la regione Emilia Romagna si è dotata di questa legge che ha che ha dei pregi ma anche abbiamo detto dei limiti consumo di suolo di netto zero cosa vuol dire che in realtà io posso continuare teoricamente a consumare suolo con tutti i diciamo rischi e i difetti che ci siamo già detti di perdere servizi ecosistemici ogni volta che lo vado a consumare e tentare di compensare compensare non sarà mai come tenerci il suolo che abbiamo perché non avremo mai il suolo uguale a quello che abbiamo perso noi potremmo tentare di ripristinare alcuni servizi ecosistemici ma gran parte di quelli che abbiamo perso consumando quella parte di suolo saranno persi definitivamente per sempre soprattutto perché ce lo insegnava il professore prima i suoli noi l'abbiamo imparato lavorando con i pedologi non sono tutti uguali non è che tutto quello che sta qui sotto è tutto dello stesso tipo ci sono suoli migliori e suoli peggiori adesso uso un termine molto banale in realtà dietro questo c'è uno studio della quantità e qualità dei servizi ecosistemici che questi suoli ci offrono e quindi forse la pianificazione dovrebbe avere attenzione della quantità di suolo che si consuma ma anche della qualità di suolo che si consuma perché ci sono suoli che una volta persi sono molto importanti in realtà per aiutarci a gestire queste situazioni anche di cambiamento climatico vado avanti un po' velocemente alcune immagini su Forlì perché poi il focus su Forlì credo sia importante queste sono immagini che avevamo fatto in occasione del progetto ed erano relative sostanzialmente a quell'epoca lì a 2016 però fondamentalmente vedete l'evoluzione storica del consumo di suolo dal 1860 al 2016 siamo arrivati circa a un 25% di consumo di suolo dove qui noi abbiamo contabilizzato come consumo di suolo non tanto quello che dice la legge ma tutto quindi è consumo di suolo anche laddove c'è una casa in mezzo alla campagna o c'è un allevamento costruito o qualsiasi pezzo di strada sul territorio comunale a destra c'è una mappa che rappresenta invece con dei colori una gradazione di colori qual è il livello di impermeabilizzazione del suolo perché il suolo può essere consumato come è consumato per fare un parco urbano ma è evidente che il parco urbano quantomeno anche se ha perso alcune delle sue funzioni ecosistemici cioè non ci coltiviamo più per capirci quindi la funzione di produzione agricola o di produzione di biomassa non c'è più non è richiesta al nostro parco urbano Franco Agosto per capirci però fortunatamente in gran parte è permeabile e quindi insomma è meglio che un'altra parte di Forlì che magari è totalmente o in gran parte impermeabilizzata qui alcuni grafici che ci dicono come sta andando a Forlì sempre dal 2016 al 2022 quindi un arco temporale molto breve in realtà il rapporto fra consumo di suolo e popolazione o addetti nell'industria e nelle varie attività vedete che è completamente sbilanciato non c'è nessun tipo di rapporto cioè non è che la popolazione cresce la popolazione è stabile anzi decresce leggermente il numero degli addetti cresce leggerissimamente il consumo di suolo cresce molto di più di qualsiasi siano diciamo i movimenti di questi due di questi due di questi due voci fattori quindi significa che il consumo di suolo non è correlato probabilmente in maniera in maniera corretta a quelle che sono le necessità della crescita economica della città e della crescita della popolazione e adesso vediamo gli ettari consumati e come cresce anche il consumo di suolo pro capite questo è stato il primo step che facciamo all'interno di quel progetto dove abbiamo fatto grazie a un'elaborazione del CNR partendo dalle banche dati che sono molto corpose della regione Emilia Romagna uno studio sui servizi ecosistemici nel nostro territorio evidente che quello che voi vedete lì colorato in azzurro è la parte impermeabilizzata o comunque urbanizzata che copre quel suolo che sotto forniva servizi ecosistemici quindi abbiamo perso molta capacità del suolo nel nostro territorio di stoccare carbonio o anche di fare infiltrare l'acqua che sono poi o trattenere l'acqua che sono fra le cose di cui parlava prima anche il professore molto importanti per contrastare questi effetti disastrosi sono stati approfonditi alcuni dei servizi ecosistemici non tutti poi questa cosa nell'ambito del progetto visto che i dati c'erano grazie diciamo a questo lavoro del CNR insieme con gli uffici regionali del servizio geologico sismico dei suoli è stato esteso alla parte di pianura dell'Emilia Romagna su cui c'era la completezza dei dati adesso questi dati la regione li sta producendo anche per le parti di Pede Collina e di Collina e quindi si potrà arrivare a queste elaborazioni per tutto il territorio regionale qua vediamo qual è stato l'impatto del consumo di suolo sulle classi di suolo e quelle che vedete più in basso nel grafico centrale in rosso sono la classe 1 di suolo poi la classe 2 la classe 3 queste sono le classi che abbiamo individuato noi come sintesi che abbiamo chiesto a livello urbanistico al CNR per ricondurre a una sorta di indice che ci serviva anche per sensibilizzare poi i colleghi gli amministratori e sono le aree che hanno il miglior livello di servizi ecosistemici e il maggior numero di servizi ecosistemici è una semplificazione evidentemente però vediamo quanti suoli di prima classe e di seconda classe sono stati consumati in crescendo fino al 2016 che è l'esame poi questo adesso lo lascio perché è tutta una parte di database che è stato realizzato ai fini del progetto che rendeva diciamo accessibili non solo ai tecnici ma anche ai cittadini la possibilità di interrogare queste mappe e capire qual era il livello dei servizi ecosistemici del suolo una cosa importante che è stata fatta a Carpi che era uno dei comuni partner di questo progetto che poi noi abbiamo replicato a Forlì avvalendoci di finanziamenti di un bando per l'adattamento climatico che era uscito a livello ministeriale è stato lo studio più dettagliato dei suoli urbani e periurbani perché poi alla fine sono i suoli urbani che auspichiamo che vengano diciamo trasformati desigillati o comunque riutilizzati e i suoli periurbani sono quelli che sono più a rischio di trasformazione perché la tendenza è la crescita diciamo a ridosso dell'urbanizzato e poi è la legge regionale stessa che dice non potete più farmi la lottizzazione in mezzo alla campagna però teoricamente questo 3% dov'è che potete spenderlo? potete spenderlo a ridosso del territorio urbanizzato questo studio indagò più in dettaglio diciamo i servizi ecosistemici dell'area urbana per arrivare a farne una loro valutazione il comune di Forlì ha fatto la stessa cosa al di fuori del progetto che si era concluso avvalendosi di questo finanziamento di una piccola parte di un finanziamento dell'allora Ministero della Transizione Ecologica e sempre con l'aiuto del CNR della regione è stata fatta una campagna di rilevamento dei suoli con un pedologo che ha fatto 240 campioni in giro per tutte le zone di Forlì ovviamente in maniera diciamo studiata preventivamente da parte del CNR della regione per andare a infittire i dati di cui la regione disponeva già questa campagna ha indagato aree verdi di tutti i tipi dall'agricolo intercluso operi urbano giardini di quartiere orti per anziani parchi verde boschivo verde scolastico per andare a capire quali sono le potenzialità dei nostri suoli urbani e perurbani in modo che quando facciamo la pianificazione siamo più consapevoli visto che è il tema che abbiamo detto prima di che cosa rischiamo di andare a perdere se ne andiamo come dire a peggiorare o a trasformare non vi dico quali sono i tipi di analisi che sono state fatte fra le carte aggiornate dei singoli servizi ecosistemici che sono stati indagati è stata aggiornata anche la carta di sintesi che ci aiuta a capire in maniera un po' più speditiva per quanto grossolana quali sono i suoli migliori e i suoli peggiori non perché automaticamente dobbiamo andarci a consumare i suoli peggiori però sapendo che comunque una parte di trasformazione dei suoli ancorché non auspicabile ci sarà ci aiuta a indirizzare delle scelte quindi quelle che vedete qui sono stati sommati diciamo in qualche modo con degli algoritmi la qualità dei suoli rispetto alla produzione agricola all'effetto filtro del suolo allo stoccaggio dell'acqua e lo stoccaggio del carbonio e il dato è stato enormemente raffittito rispetto a quello che era il dato regionale del progetto precedentemente quindi abbiamo un dettaglio di 25 per 25 metri in area urbana e 100 metri per il resto del territorio comunale il tema del desiling è una delle cose che noi c'eravamo posti andando a vedere anche cosa facevano all'estero nel 2016 2017 dove queste cose in Germania che pure hanno un livello di consumo di suolo spaventoso le facevano da tanti anni le realtà che siamo andate a vedere sono state Dresda città completamente quasi rasa al suolo durante la seconda guerra mondiale che quindi ha storicamente molti siti dismessi di vario tipo che si è posta a questo tema e Stoccarda che ha il 50% del suolo consumato del proprio territorio perché comunque è una città fortemente industriale nella quale hanno sede tantissime aziende che producono automobili da sempre storicamente e ha un suolo anche molto inquinato per via diciamo dei materiali con cui si fa l'auto abbiamo visto dei siti dove c'era Cromesa Valente che zampillava da buchi nel terreno dove hanno speso milioni di euro ovviamente in questo caso statali o del lender quindi regionali per fare delle bonifiche che un operatore privato non si sarebbe potuto permettere di fare però il tema del desiling è un tema che noi insomma in qualche modo ci è entrato in testa che abbiamo introitato e che vogliamo applicare anche se la legge regionale come dire lo rimanda a quando avremo finito il 3% non parla neanche di come si deve fare questo desiling noi questa cosa ce la siamo studiata andando a vedere in giro per l'Europa cosa faceva chi prima di noi si è posto il problema che non è che l'ha totalmente risolto ovviamente e ci ha detto molto chiaramente quali sono i limiti di tutte queste cose però insomma in qualche modo abbiamo imparato questo tema della consapevolezza torniamo sempre lì il desiling è la bonifica la bonifica è un'altra cosa la bonifica dei suoli il desiling vuol dire se usiamo un termine inglese vuol dire desigillare noi normalmente facciamo un parcheggio tanto per fare un esempio cosa facciamo una bella colata di asfalto di cemento e abbiamo sigillato il suolo che rimane sotto il tema è soprattutto in città dove c'è isola di calore quindi abbiamo bisogno di agire con le cosiddette network based solutions cioè con soluzioni basate sulla natura adesso qui torniamo al tema del creato che credo sia assolutamente calzante cercare di riportare più verde in città per farlo dobbiamo desigillare delle zone che noi abbiamo sigillato in maniera molto pesante o comunque dobbiamo anche agire laddove comunque ci servono delle superfici chiamiamole così sigillate con materiali di altro tipo che aiutano almeno quindi sistemi di drenaggio sostenibili quindi noi ci siamo posti questo tema che avevamo visto all'epoca studiato e applicato da Berlino da Dresda da Stoccarda da altre realtà in tutta Europa questo tema della desigillazione che non è che è la panacea di tutti i mali però certamente dobbiamo mettere in campo rispetto a un consumo che progressivamente sarà residuo fermo restando che tutto il vecchio che abbiamo portato in approvazione questo non ce lo salva nessuno possiamo solo correggere in corso dopo riducendone l'impatto con delle modalità di realizzazione degli interventi più sostenibili per il futuro dobbiamo agire come amministrazione comunale dando l'esempio ma anche chiedendo ai privati di fare queste operazioni compensative con interventi non solo di forestazione urbana di implementazione delle infrastrutture verdi anche di micro interventi di forestazione o di implementazione del verde in città ma prima di tutto desigillando per andare a migliorare le situazioni nelle varie parti della città perché la città non è impermeabilizzata come abbiamo visto prima in maniera uguale e quindi può essere sofferente rispetto alle isole di calore o a rischio degli eventi meteorici ovviamente lasciamo stare l'esondazione del fiume che è un tema ma rispetto ad altri eventi meteorici che mettono in crisi il sistema funiario avere più verde in questi contesti ci aiuta a fare assorbire almeno una parte di quest'acqua del suolo prima il professore diceva appunto forse l'ha detto in qualche altro contesto comunque è assolutamente così che la formazione del suolo la pedogenesi è un processo molto lungo e qui vediamo con una sorta di metro come per formare questi 20 cm di suolo che sono il top soil la parte superficiale di suolo i 20-30 cm ci vogliono dei tempi che rispetto alla storia dell'uomo stiamo parlando di migliaia di anni per formare il suolo e noi in un attimo lo andiamo a impermeabilizzare perché a realizzare un parcheggio ci mettiamo veramente poco e quindi facciamo sparire gli effetti benefici per noi di quel pacchetto di suolo e qui sempre il progetto ha messo in piedi un meccanismo delle linee guida che abbiamo cercato anche di divulgare sulla rimozione gestione e riapplicazione del top soil perché c'è anche il tema che il top soil è questi 20 cm superficiali di suolo il suolo è tutto importante ovviamente però i primi 20 cm o 30 cm sono quelli più ricchi di sostanza organica come ci faceva vedere prima questo famoso cucchiaino che è pieno di miliardi diciamo di esseri viventi e noi finisce che quando facciamo i cantieri prendiamo scaviamo e mescoliamo i primi 20-30 cm con tutto il resto del terreno come dire un po' più povero di sostanza organica che sta sotto e poi semplicemente poi magari lo riutilizziamo per ripristinare da qualche altra parte però a quel punto il danno in parte è fatto quindi qui è un po' come dire ambiziosa la cosa però c'erano delle esperienze anche qui che avevamo visto abbiamo cercato di codificare in una versione italiana il tema di riutilizzo anche del topsoil non soltanto del suolo facendo in modo che questo venga prelevato in cantiere in un certo modo stoccato e riutilizzato messo alla fine in modo che ritorni nella sua posizione che è quella superficiale e non finisca dentro il buco mescolato con il resto della terra questa cosa c'eravamo anche promessi non solo noi ma anche all'Europa di provare a farla per vedere se al di là di scriverla e raccontarla era fattibile l'abbiamo fatta l'abbiamo fatta dove siamo riusciti a far coincidere il cantiere del San Domenico che voi conoscete dove è stato tolto adesso qui vi risparmio il video ma c'è un video che in fondo alle slide è assegnato ve lo andate a vedere in tre minuti vedete la sintesi di come noi abbiamo desigillato 6500 metri quadri in centro storico togliendo per carità un parcheggio in centro storico e rimesso del verde rimesso un'area verde adesso qui la vediamo questo era quello che era ve lo ricordate credo quasi tutti com'era il parcheggio del San Domenico e destolta tolta la parte bassa quella diciamo di fronte a quella che chiamiamo la barcaccia che è la parte residua del progetto dell'architetto Sacripanti quando quella zona lì doveva diventare la sede del nuovo teatro di Forlì dentro al San Domenico che poi invece con gli anni è diventato un museo è diventato altro era stata realizzata solo la prima parte di quel progetto cioè il parcheggio del teatro poi in realtà il teatro non si è mai fatto che il teatro doveva entrare dentro la navata semidistrutta semicrollata del San Domenico ed essere quello il teatro di Forlì questo negli anni 70 fu fatto un concorso di progettazione vinse questo architetto un importante architetto dell'epoca Sacripanti e di quel progetto fu realizzato solo queste due cose poi San Domenico ha preso diciamo un'altra direzione perché è stato destinato a quello che è diventato fortunatamente forse in qualche modo insomma una realtà importante per la città e però la parte davanti era stata pesantemente sigillata come un po' usava all'epoca al di là dell'inventiva dell'architetto Sacripanti questa cosa qui vedete l'area da desigillare a destra vediamo la cosiddetta barcaccia cioè la parte rialzata che comunque sotto ha un parcheggio qui c'è tutto il tema della caratterizzazione ambientale bonifiche sì in questo caso perché lì storicamente l'area era stata intesata da fabbriche in epoca tardo-ottocentesca che poi sono state bombardate durante la guerra voi capite che comunque c'era un inquinamento sottostante che è stato rimosso e qui vedete poi nel video si vede perché è bellissimo ovviamente si vedono queste gru questi gru questi scavatori che prendono e masticano proprio il cemento lo sbricionano tutto è abbastanza secondo me è bello anche da vedere ed è stato tolto tutto questo parcheggio e qui si vede già quando è stato riportato il topsoil quindi è stato messo prima del terreno di riempimento e questo topsoil è stato prelevato da un'altra area dove evidentemente c'era un'urbanizzazione per realizzare una strada di accesso a una cava e questo topsoil è stato salvato è stato portato qui ed è stato steso come ultimo strato qui il topsoil aveva con la prima pioggia già diciamo germogliato aveva prodotto poi è chiaro che come dire è chiaro c'erano delle esigenze estetiche siamo davanti al museo di San Domenico si è deciso comunque oltre che di usare questo strato molto ricco di sostanza organica di mettergli anche esteticamente un rotoprato sovrastante come finitura finale questo è l'area verde che è stata restituita nel nostro piccolo a Forlì un intervento importante perché all'epoca a Milano avevano desigillato 900 metri quadri in un'intersezione stradale sembrava che avessero diciamo desigillato il mondo noi a Forlì che è un po' più piccola di Milano siamo permessi di sottrarci comunque di restituire a verde 6500 metri quadri in centro storico questo è l'altro tema molto importante per dire che insomma queste tematiche qui nel nostro piano urbanistico per quanto arrivi tardivamente le affrontiamo tutte e l'altro tema della vulnerabilità alle ondate di calore che sono anche esse estrettamente correlate col tema suolo le temperature come potete immaginare abbiamo visto l'ultima estate vanno sempre crescendo tutti gli anni noi abbiamo indagato con l'aiuto del CNR di sede di Bologna in questo caso sono specializzati su queste cose quali sono le aree con l'aiuto anche di immagini satellitari ed elaborazioni quali sono le aree più calde del nostro territorio nelle giornate tipicamente di calore estivo quindi in corrispondenza delle ondate di calore non entro nella parte tecnica di come sono costruite queste mappe però alla fine in buona sostanza si è arrivati a produrre una mappia del rischio delle ondate di calore che ovviamente è fortemente influenzata da quanto c'è di costruito sopra da qual è la densità di questo costruito e da quanto verde c'è o non c'è quindi ovviamente più è costruito più impermeabilizzato meno verde c'è è evidente che quelle zone lì in piena estate quando fa 36 37 40 gradi saranno i posti più caldi di forlì di giorno e di notte peggio ancora di notte perché il tema delle notti tropicali è quello che non ci fa dormire perché poi tutto il caldo accumulato dalle superfici impermeabilizzate viene buttato fuori di notte io ho il muro di casa mia che è una casa degli anni 60 che ha un fornetto e mi butta dentro il caldo tutta notte quindi questa cosa mi è totalmente totalmente chiara questa dopo è stata fatta un'ulteriore elaborazione che tiene conto ma questa serve come dire una mappa in divenire è una fotografia di un momento che tiene conto del rischio con l'aggiunta della popolazione cioè chi è che ha il maggior rischio quando ci sono le ondate di calore e queste situazioni di caldo estremo è evidentemente la popolazione più anziana o i bambini molto piccoli sono quelli che sono più esposti a questo tipo di rischio quindi qui abbiamo incrociato anche i dati relativi in quel momento è stato fatto un anno e mezzo fa questo studio alla popolazione anziana e alla come dire il rischio diciamo l'esposizione dovuta ad altri fattori che sono quelli che vi ho detto prima per chiudere in Source for Life sono state prodotte delle linee guida che noi abbiamo diffuso un po' in tutta Italia un'attività coordinata alla regione Emilia Romagna dove c'è tutto questo tema della rigenerazione urbana di come possiamo agire liberando il suolo andando a desigillare andando a inserire soluzioni basate sulla natura quindi verde alberature come fare anche i parcheggi in modo diverso in maniera più sostenibile sistemi di drenaggio sostenibili perché gli obiettivi sono da una parte avere la città oasi che quindi ci aiuta in estate ad avere più ombre avere più refrigerio quindi la funzione di evapotraspirazione delle piante e del suolo sono molto importanti per ottenere questo e la città spugna che è un po' quella che ci faceva vedere Pileri cioè il suolo ingrandito alla massima potenza cioè la città che in realtà è capace una parte dell'acqua di trattenerla e farla infiltrare lentamente nel suolo evitando i disastri vado oltre qui ci sono ovviamente documentazione tecnica a disposizione dei tecnici ma anche dei cittadini che se la vogliono leggere questi documenti sono tutti gratuiti liberamente scaricabili dal sito della regione dal sito del progetto Source for Life che spiegano diciamo tutte le varie soluzioni giardini della pioggia noi non ci siamo fermati come dire alle linee guida il comune di Forlì già da qualche anno cerca di applicare queste cose anche in attesa del Pug e c'è un volume anche su tutti gli esempi europei abbiamo fatto abbiamo realizzato perché c'era questa necessità dei parcheggi diciamo in aree di regenerazione urbana in centro storico insomma riutilizzando delle aree adesso in questo caso in realtà l'area era un residuo di area verde però c'era questa necessità in prossimità di una scuola in centro storico stiamo parlando della via Casamorata diciamo via l'Italia la scuola era la Dante Alighieri c'era una necessità per problematiche di traffico di genitori che andavano a recuperare i bambini di realizzare un parcheggio che alleviasse questa situazione il parcheggio è stato fatto utilizzando non asfalto calcestruzzo drenante quindi non materiale a base diciamo petrolifero giardini della pioggia ovviamente alberature quindi è pur sempre un parcheggio ma è un parcheggio che segue i principi che dicevamo prima qui non abbiamo desigillato qui abbiamo sigillato ma usando materiali sono drenanti questo parcheggio è stato finito non inaugurato finito pochi giorni prima dell'alluvione 2023 è piovuto era perfettamente asciutto questo parcheggio ha fatto il lavoro che doveva fare è stato fatto in un modo in cui effettivamente ha fatto infiltrare l'acqua nonostante fosse anche in un ribassamento peraltro abbastanza vicino al ponte di Schiavonia questo è il parcheggio realizzato come potete vedere ci sono queste soluzioni che fanno nei cordoli non trattengono l'acqua non la mandano nelle fogne poi c'è anche il sistema fognare naturalmente ma la mandano verso questi giardini facendola entrare e nei giardini viene infiltrata nel suolo poi esistono dei sistemi di troppo pieno naturalmente però diciamo che in qualche modo solo una parte dell'acqua va nella fognatura e una parte va in questi sistemi questa è un'altra area che invece è stata riqualificata in parte era storicamente pavimentata con un parcheggio interno dell'ospedale è stata riqualificata e sono stati creati un parcheggio a corona del centro storico a servizio sia dell'università del campus universitario sia del centro storico questo era il progetto e qui si vede dove anche qui sono stati implicati questi principi cioè incrementare le alberature calcio estruso drenante materiali chiari perché anche il tema dell'albedo è molto importante cioè avere materiali scuri trattiene di più il calore invece i materiali chiari riflettono di più materiali più chiari e giardini della pioggia questa cosa è stata realizzata questo è il giardino adesso è un po' come dire va un po' sistemato un pochino di manutenzione perché nel frattempo è cresciuta un po' la vegetazione ma c'è la vegetazione che è prevista dentro i giardini della pioggia poi c'è qualche infestante e anche qui vedete con la freccia che ci sono queste aperture che fanno sì che i parcheggi invece che scolare nella classica canalina centrale del parcheggio dove ci sono le fogne scolano dentro le aree dei giardini della pioggia quindi per far infiltrare lì l'acqua questo è un altro parcheggio dove invece si è utilizzato solo calcestruzzo drenante ma non c'è il meccanismo dei giardini della pioggia molto più semplice però vedete anche qui la porosità di questo calcestruzzo drenante con questo ho concluso spero di aver fornito qualche informazione sul fatto che il comune di Forlì si pone il problema qua grazie a tutti Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.